Anche quest'anno sono stati moltissimi bambini che, accompagnati dai loro genitori, hanno atteso questa mattina l'arrivo della Befana in piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso. In verità si è fatta un po' attendere, ma comunque è stata accolta con grande felicità quando si è calata da una finestra del municipio salutando tutti e spargendo dolciumi e caramelle che attingeva dal sacco sulle spalle. Si è rinnovata la tradizione che da alcuni anni è stata voluta ed organizzata dai Vigili del Fuoco del Comando del Capoluogo e che da sempre hanno trovato il sostegno e la complicità dell'amministrazione comunale. Oggi è stata davvero una bella festa, tra l'altro accompagnata dalla luce e dal calore del sole che ha voluto donare ai bambini una giornata serena ed abbastanza calda, sicuramente una condizione insolita per i primi di gennaio. Una iniziativa che i cittadini di Campobasso hanno ancora una volta apprezzato, ringraziando i Vigili del Fuoco per la loro sensibilità e per il lavoro che svolgono in funzione della tutela delle persone e dei luoghi.